Signore e amici, buona domenica a tutti! Oggi a pranzo sugo di salsiccia, con cui andremo a scondire le orecchiette fresche e di secondo faremo cotelette di pollo. Buona domenica, buon pranzo a tutti! Forza anche il dolcino! Buona domenica a tutti e buona cena! Io a pranzo ho avuto i miei figli, quelli grandi, e sono rimaste le orecchiette fresche. Amici, buona sera, buona domenica, buona cena a tutti! Io per scaldo le orecchiette che sono avanzate da pranzo, con il sugo con le salsicce. Scaldo queste, perché ne è avanzata, che a pranzo avevo i miei figli, eravamo tanti, c'era mia nipotina, e allora avanzare tanta roba. Neanche le ho fatte più le cotelette, quello e il pollo lo farò domani, i pasticcidi se ci sono mangiati tutti. Adesso riscaldiamo questo, e mi è rimasta anche, ho aperto i miei affettati, ho aperto i salumi calabresi, quelli che avevo portato dalla Calabria. Sono avanzati un po' di quelli col pane, le patatine fritte, e buona cena a tutti quanti! E voi cosa avete mangiato questa domenica? Amici, eccoci qua la cena, le orecchiette, scarfate, i stacchiotti scarfati, la salsiccia, metto una bella piccola di pecorino romano, Trentin pecorino, pecorino trentino, un po' da bere, un bello bicchiere di miero, con un po' d'acqua però, miero, negro amaro del Salento. Alla salute! Bodi, ristacchiotti! Alla salute vostra e mia! Buon giro! Buon giro!